Il peggiore è il cimitero di Colle Madonna, Pescara, seguito da quelli di Spoltore, Città Sant'Angelo e San Silvestro, sempre a Pescara. Il migliore, quello di Montesilvano, che comunque, con il suo punteggio di 2,5, non arriva alla sufficienza individuata nel punteggio di 3 su una soglia massima di 5. E questa, la classifica dei cimiteri prodotta dal primo report conclusivo dell'osservatorio annuale predisposto da Arco Consumatori, in collaborazione con ACU, Guardia Civica e contribuenti italiani sulla qualità dei servizi cimiteriali e funerari nei quattro comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, praticamente la grande Pescara, e Città Sant'Angelo. Le voci esaminate sono state in tutto 37, raggruppate nelle macro aree dell'accessibilità esterna, dell'accoglienza, dell'accesso alle tombe, della pulizia e degli arredi, dei servizi igienici e della camera mortuaria. Ne è emerso che nessun camposanto dei quattro analizzati ha raggiunto un livello accettabile in nessuna delle voci considerate. Tanti, forse troppi, i problemi da risolvere e su tutti il più urgente è senza dubbio quello delle barriere architettoniche, che penalizza soprattutto anziani e disabili e che a Franco Venni, presidente nazionale di Arco Consumatori, fa dire che... I cimiteri non sono per anziani, non sono cose per chi porta l'handicap, non sono cose per persone malferme, cioè sono praticamente fatti a immagine di persone normodotate e soprattutto agili, giovani, eccetera. Sono prevalentemente in collina e invece devono stare in pianura, perché le stradine interne devono essere asfaltate, devono avere i servizi sia di autobus che di parcheggio adeguati, le tombe devono essere numerate, bisogna abolire qualsiasi tipo di ghiaino all'interno perché ovviamente non ci possono passare le carrozzine, ma neanche i bambini con la carrozzina. E poi c'è tutta anche la questione dei servizi, addirittura le grondaie non ci sono, per cui l'acqua va a finire per terra, le scale sono senza scivolo e poi quando ci sono territori in salita in questo modo fate le scale mobili, soprattutto per gli anziani, o i comuni si attrezzino con delle piccole automobiline, quelle elettriche, che sono anche nei campi da golf e in qualche modo aiutino gli anziani. Per questo abbiamo già inviato una lettera ufficiale alle amministrazioni comunali, quindi aspettiamo delle risposte. Vogliamo anche vedere le carte dei servizi, che attualmente non ci sono e che invece determinano le standard di qualità e gli impegni che le aziende prendono e le amministrazioni prendono con le aziende che eventualmente fanno la gestione della manutenzione. Proprio nei giorni scorsi i due cimiteri di Pescara sono stati oggetto di segnalazione di disservizi a causa delle lunghe attese per la sepoltura delle salme, stipate nelle camere mortuarie per carenza di loculi e di necrofori, come ricordato in conferenza stampa. Ma anche le case funerarie saranno prossimamente oggetto di analisi, come accenna sempre Franco Venni. Noi proseguiremo queste indagini adesso un po' a tappeto su altri comuni e soprattutto ci occuperemo anche delle casse funerarie. Stanno sorgendo come funghi da tutte le parti, spesso non sono a regola, sono abusive e soprattutto collocate in posti dove non ci devono stare, mancanza di servizi eccetera. Però lì ci si fa i soldi e quindi ci sono buttati tutti a pesce. Quindi adesso anche su questo cercheremo di capire un po' meglio cosa sta succedendo. Grazie.